Buongiorno, sono Fabrizio Cantella e questa è la BMT, 24esima edizione, sospirata, agognata e finalmente raggiunta. È la prima manifestazione internazionale in presenza che si fa in Italia. Siamo contenti, lieti di aver raggiunto questo obiettivo con lo sforzo congiunto di tutti. Sì, diciamo che hanno creduto nella manifestazione le oltre 300 aziende che sono presenti oggi in fiera, le istituzioni che ci hanno accompagnato, ieri abbiamo inaugurato la manifestazione con il Ministro del Turismo. La strada è ancora in salita, ma noi siamo contenti di aver imboccato quella giusta e siamo certi che nel giro di breve riusciremo finalmente a ripartire a pieno con le nostre attività. La BMT è una manifestazione dedicata al turismo nella sua accezione più ampia. Quest'oggi in fiera ci sono molte nazioni presenti che si promuovono e si promuovono non in concorrenza, ma si promuovono in modo coerente con lo stesso concetto di voler ripartire. Quindi abbiamo la Spagna, abbiamo la Grecia, abbiamo la Croazia, abbiamo la Slovenia e abbiamo anche il lungoraggio, la Tunisia, Cuba. Siamo tutti pronti a ripartire con lo stesso entusiasmo e con la stessa voglia. Siamo lieti di poter dire che finalmente intravediamo una bella luce alla fine di un tunnel.